Cari connazionali, mettermi al vostro servizio, quale vostra deputata, è stato un grandissimo onore. Mi avete concesso in questi anni di portare a Roma le vostre istanze. Se mi rinnoverete la vostra fiducia potremo raggiungere altri importanti obiettivi garantendo la voce degli italiani all'estero al nostro Parlamento italiano. Alla Camera vota Nissoli. Grazie mille.